La storia viene scritta negli incitori. Questa è la storia, è la nostra storia. Un mese fa la nostra terra subì un attacco alieno, morirono in molti. L'unica speranza per restare in vita era combattere. L'unica speranza per restare in vita. 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 Ecco Non ha senso quello che dici Suscitare delle creature mostrose Pronte ad ucciderci E dobbiamo difenderci a qualunque costo Come noi siamo Sì 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 Oh Dove mi trovo? Dove mi trovo? E' l'alba Prima adesso sei svediata Tu che ci fai qui? Tu sei morta Non siamo avvissuti Vediamo la vita E' l'alba Cosa facciamo? Ci uccideremo tutti fino all'ultimo Facciamo fuori Voi sparate, so io cosa cazzo fare E' tardi E' tardi A terra ragazzi E' tardi 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 Oddio Oddio Ti apro io Chris ci sono visite die Basta non più diamo tempo Quei zoom sto venendo Air dove stai? anche ne sono pochi non c'è nessuno perché? non c'è nessuno perché? non c'è nessuno perché una patola di trappola non c'è nessuno perché sono tutti dentro non c'è nessuno ma non c'è nessuno Grazie Andiamoci le cazzo Hanno molto da qui, c'è una legge che ci aspetta Dovrebbe esserci Ne dobbiamo solo andare, ok? Andiamo adesso Oh, oh, oh ah la bomba ok ok yeah mmm mmmm Grazie a tutti